balza all'occhio in maniera positiva di che situazione stiamo parlando ragazzi immediatamente vedete lì gli avversari sviluppare sulla sinistra lui posizionarsi bene in ambito Juve potrebbe essere effettivamente il portiere del futuro bianconero vi dirò altro episodio di scouting rapido questa rubrica dove analizziamo in maniera veloce diretta vari giocatori oggi il focus è su un portiere ma Mardashvili in orbita Juventus che punta evidentemente su di lui su un giocatore che attualmente gode la fiducia del proprio mister Gattuso al Valencia un giocatore giovane parliamo di un classe 2000 22 anni 1 metro e 98 che si è messo sicuramente in mostra durante la scorsa stagione ma che ha iniziato altrettanto bene anche la stagione in corso qualche numero per contestualizzare un po il profilo è un giocatore che para con buona frequenza attualmente respinge 3,5 tiri in media per partita per quanto riguarda le parate parliamo del 78 per cento di tiri parati agli avversari quindi per quanto riguarda il fondamentale della parata pura un portiere che nonostante la giovane età insomma salta all'occhio si fa notare ho guardato le ultime partite un giocatore che già mette in mostra determinate caratteristiche una certa affidabilità ma ragazzi come dice il titolo stesso della rubrica andiamo in maniera rapida diretta al punto facciamo parlare il campo la nostra amatissima lavagna tattica ci fa capire così di prima chitto che stiamo parlando di un portiere che per quanto riguarda il posizionamento secondo me mette in mostra delle qualità a questo punto di vista a me piace perché risulta essere spesso e volentieri attento segue bene la manovra degli avversari tende a chiudere bene lo specchio di tiro dell'avversario stesso come possiamo vedere in questo esempio dove i rivali sviluppano e provano a finalizzare una manovra sfruttando il lato sinistro del campo ma Mardashvili lo vedremo immediatamente attraverso la clip segue l'azione tende a seguire sempre la giocata e a chiudere lo specchio di tiro dell'avversario da questo punto di vista nonostante la giovane età un fattore anche tattico se vogliamo che sicuramente balza all'occhio in maniera positiva di che situazione stiamo parlando ragazzi immediatamente vedete lì gli avversari sviluppare sulla sinistra lui posizionarsi bene chiudere lo specchio della porta e parare in maniera corretta anche grazie a un certo tipo di posizionamento corretto quindi da questo punto di vista mi sento di affermare che c'è della qualità sicuramente parlando di un profilo giovane un'ottima base dalla quale partire vi suggerisco inoltre che su instagram ragazzi ho pubblicato un post dove c'è anche un confronto con cesni per quanto riguarda le statistiche delle parate le percentuali di tiri respinti il tipo di gioco che ha ogni portiere ragazzi se vi va potete trovare appunto il confronto su instagram direi di passare alla raffica di clip per vedere altre immagini del portiere sia per quanto riguarda il posizionamento i riflessi la distribuzione del gioco palla al piede ragazzi di nuovo spazio alle immagini qui torniamo a parlare del posizionamento lo vediamo lì seguire sempre bene la manovra chiudere lo specchio anche grazie se vogliamo ad un errore avversario ma qui riflessi lì ragazzi tanta roba tiro da distanza super ravvicinata vediamo immediatamente un altro esempio sempre tiro da distanza ravvicinata riflessi eccellenti e parata per quanto riguarda la distribuzione palla al piede un giocatore che possiamo affermare fa il compitino non è particolarmente partecipe non è un portiere regista basso se vogliamo come suggerisce la tendenza della nuova scuola per quanto riguarda i portieri parliamo di questi fattori ad esempio nei nostri corsi tra parentesi ragazzi se volete fare questo di lavoro come dico sempre diventare osservatori match analyst data analyst ultimissimi posti per i corsi del prossimo mese trovate tutte le info come sempre in descrizione software offerte di lavoro se vi va ripeto trovate tutto qui in basso ma per tornare a noi in ambito juve potrebbe essere effettivamente il portiere del futuro bianconero vi dirò attualmente ovviamente l'età gioca a suo favore quindi anagraficamente ci siamo ma qui è un dato oggettivo ma per quanto riguarda valutazioni in merito al calciatore le statistiche sono positive per quanto riguarda il contributo tra i pali per quanto riguarda le caratteristiche tecnico tattiche e anche fisiche se vogliamo interessante sicuramente ci sono dei difetti c'è qualcosina da smussare ma ne parleremo eventualmente in un'analisi più approfondita nel caso il giocatore dovesse arrivare effettivamente in italia nel frattempo appuntamento qui in basso per conoscere le vostre opinioni nei commenti l'analisi tattica di oggi finisce qui come sempre spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like e condividetelo se vi va è stato un piacere enorme passare questi minuti con voi un salutone era il prossimo appuntamento grazie a tutti grazie a tutti